Ormai è questione di giorni. Forse già questa settimana o al più tardi agli inizi di agosto il ministro dovrebbe firmare il bando del concorso ordinario per scuola primaria e scuola dell'infanzia. Si parla di 17.000 posti a concorso, 10.600 per il 2020-21 e altri 6.400 per l'anno successivo. Si tratta di una occasione molto importante anche per i docenti diplomati magistrale che a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato perdono il diritto a permanere nelle GAE. Se poi dovesse essere approvato un emendamento del senatore della Lega Mario Pittoni potrebbe arrivare anche un concorso straordinario bis aperto ai precari con un solo anno di servizio. Per non parlare poi del concorso della scuola secondaria che prenderà avvio non appena il Governo approverà il relativo decreto legge che dovrà essere poi convertito in legge dal Parlamento. Le scadenze delle procedure, date di presentazione delle domande, date delle prove e così via, non si conoscono ancora. Ma chi ha davvero intenzione di dedicarsi all'insegnamento farebbe bene a iniziare a prepararsi. Anzi, forse questo è proprio il periodo più adatto per studiare, perché soprattutto se già si sta lavorando come supplenti si è relativamente più liberi da impegni scolastici. Ma come prepararsi al concorso? Beh, innanzitutto è opportuno documentarsi sui programmi previsti per le diverse prove e peraltro contenuti nei bandi e nei regolamenti. Ma soprattutto è necessario leggere molto e approfondire in particolare i temi sui quali ci si sente meno sicuri. Senza dimenticare che la prova principe del concorso è sempre quella scritta, quindi è assolutamente fondamentale esercitarsi anche nella scrittura. Quindi non basta conoscere bene un argomento, ma bisogna anche essere in grado di esporlo e argomentarlo con gli strumenti della lingua scritta. Non dimentichiamo che il concorso è la via maestra per entrare nel mondo della scuola e purtroppo non è una occasione che si presenta con la dovuta regolarità. Quindi leggere, studiare, approfondire, esercitarsi molto per cogliere questa occasione. Buon lavoro e buona fortuna a tutti. Vi ricordiamo che questo video è l'ultimo dell'anno scolastico 2018-19. Con questo video noi interrompiamo per qualche settimana le nostre trasmissioni, riprenderemo a inizio di settembre e ovviamente però potete continuare in questo periodo a scriverci e soprattutto a leggerci sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it